La tempesta di cui abbiamo parlato per mesi all'interno di questo canale, purtroppo, è intorno a noi. Ieri abbiamo avuto il tonfo dell'euro, che è letteralmente crollato. E il bello è che non è ancora successo niente. Cioè, figuratevi cosa può accadere in caso di embargo, embargo sul gas, sul petrolio. Quei pessimisti del The Guardian scrivono che nel prossimo futuro ci sarà uno shock economico per il mondo intero, in particolare per il vecchio continente. No, secondo me si sbagliano, non ci sarà nessuno shock economico. Anzi, fino al 2021, fino a qualche mese fa, c'era il boom boom, il boom economic. Non siamo messi male. No, perché dobbiamo dire che siamo messi male? In fin dei conti l'Italia è un paese dallo stipendio e dalle pensioni garantite. Poi abbiamo Mario Draghi. Vuoi mettere Mario Draghi al governo del nostro amato paese? È una garanzia, ragazzi. Ancora, i giornali internazionali, non quelli italiani ovviamente, riportano che l'Europa è vicina ad un collasso. Io non so sinceramente dove vivono questi signori. In Italia c'è il boom economico. Ci sono gli statali con gli stipendi garantiti. Dicono che chiuderanno circa 180.000 aziende. Ma quando mai, ragazzi? Andrà tutto bene. Va tutto una meraviglia. Un bijou. Shanghai è completamente bloccata, scrivono, dalle restrizioni. Ieri c'erano 87 morti. Menchia, ragazzi. Stiamo parlando, dati 2019, di 26 milioni di cittadini che abitano a Shanghai. E ieri c'erano 87 morti. Quindi questi morti giustificano il fatto di bloccare tutto. Bloccare porti, bloccare le consegne, bloccare le materie prime. Insomma, mandare in tilt il sistema degli approvvigionamenti. Perché la continuità, vi ho già detto, tra la guerra, la guerra che stiamo vivendo, e i lockdown, la continuità. E far sbagliare completamente gli approvvigionamenti. A cosa serve tutto ciò? Ne parliamo questa sera. Quindi non mancate alla nuova puntata dello Show Libertario. Questa sera, ore 21, non parleremo solo di quello che c'è scritto nel titolo. Cioè, che ci sarà un attacco senza precedenti ai nostri contocorrenti. Parleremo anche di altre situazioni che stanno accadendo. Detto ciò, ieri leggevo un commento sotto un mio video di YouTube. C'era una persona che scriveva che sta per vendere tutti i suoi terreni agricoli per avere la giusta liquidità per affrontare la situazione. Dal mio punto di vista, chi ha scritto questa frase non ha capito proprio un... Tieniti forte i tuoi terreni. Se hai bisogno di liquidità, vendine qualcuno. Ma abbiamo di fronte a noi, di fatto, una guerra alimentare. Io capisco che queste informazioni non vi vengano riportate sui giornali e sulle telefinzioni. Questo non vuol dire che il problema non esiste. La tempesta perfetta è arrivata. Ci stiamo per entrare dalla testa ai piedi. E dal mio punto di vista, quello che ci aspetta nelle prossime settimane sono, di fatto, degli scontri. Il rischio reale, per chi sa leggere i dati, è una guerra civile in Europa. Spero vivamente, ovviamente, di sbagliarmi. Ma dal mio punto di vista, qui non saranno problemi per chi ha i soldi, come spesso commentano sotto i miei video. Io fortunatamente scrivono, non ho questi tipi di problemi, non ho soldi. Io non ho niente, non ho nulla da perdere. Quindi segnatevi quello che sto per dirvi. Ci sarà la fame, tanta fame. Caos e disordini in tutta Europa. E questi caos sono già iniziati in Francia, il giorno stesso delle elezioni di Macron. Questa sera, nello show libertario, questa sera, vedremo delle immagini abbastanza allarmanti. Purtroppo questa guerra rovinerà l'Europa, altro che le sanzioni contro Putin e contro la Russia. Lo sanno tutti, lo sanno pure i muri. Ma loro fanno finta di nulla. Vanno avanti, faranno l'embargo contro la Russia sul gas e sul petrolio. Perché è così che si convince Putin e la Russia a fermarsi. Perché non è giusto fare affari con i dittatori. Come se gli altri paesi che ci riforniscono gas e petrolio siano delle democrazie. E dopo il caso Assange, molti credono che anche le nostre, le nostre nazioni, siano delle democrazie. Eh sì, ma sai, da noi si vive diversamente. Tu sei abituato a questo stile di vita. Questo non vuol dire che vivi in democrazia. L'unica speranza erano i tedeschi. Anche quest'ultima speranza è caduta ieri. La Germania, si legge oggi, ha giorni conto di mettersi nella situazione di poter rinunciare al petrolio russo. Poi, come sapete, ieri è successo. C'è stata la prima chiusura delle tubazioni del gas per Polonia e Bulgaria. Mentana, quando lo ha annunciato ieri sera al TG La7, non ci poteva credere. Pensano che, ricoprendo alcuni ruoli di potere nel campo dell'informazione, avendo il potere di manipolare l'opinione pubblica, loro si salveranno. Il ministro dell'economia tedesco dice che l'embargo oggi è diventato gestibile. Cioè, ieri non lo era, oggi lo è. Siamo di fronte, di fatto, allo sbarrellamento totale della mente, ragazzi. È più semplice dire, è arrivata la telefonata dagli Stati Uniti d'America. Come vi ho già detto, se l'Europa, se i paesi europei, dovessero pagare il gas e il petrolio in rubli, scoppia la fine del mondo. E quindi? E quindi non ci resta che rimanere senza gas. E quindi tutte le considerazioni che ti ho fatto fino adesso. Ho intitolato questo video La tempesta perfetta è arrivata, perché vi ricordo che ancora abbiamo un caso aperto. Una situazione tutta da decidere. Quella della Cina su Taiwan. Altro che festeggiare la liberazione. Per testimoniarvi il fatto che non siamo per niente liberi, vi riporto questa notizia. Mario Draghi sarà nei prossimi giorni a Washington per incontrare Joe Biden. Ma attenzione, attenzione, perché riceverà una oreficenza. Per cosa? Per promuovere la leadership americana. Cioè Draghi, per promuovere la leadership americana e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell'affrontare le sfide del ventunesimo secolo. Per preparare bene l'appuntamento, Draghi, insomma, ha avuto tempo in questi giorni. Si è beccato il covid, sarà a casa. Giusto il tempo per organizzare un po' di telefonate, videocollo. Stanno sistemando le ultime cose. La guerra non è più, ve lo ripeto ancora una volta, anche se adesso spero che ci siate tutti arrivati, non è più solo un confronto militare tra due nazioni. Ora io vi capisco, fa più notizia i morti, i feriti, le bombe. Come saprai all'interno di questo canale non ne abbiamo parlato, non perché non le abbiamo viste, ma perché purtroppo quelle le diamo per scontate. Hanno fatto degli ucraini materiale di consumo. Vi diamo delle armi, vi diamo i carrammati, uccidetevi fra voi. Abbiamo parlato d'altro all'interno di questo canale e continueremo a farlo. Vi aspetto questa sera, alle ore 21. Non parleremo solo di quello che c'è scritto nel titolo della serata, perché in fin dei conti è uno show libertario. Quello che vi accompagnerà, volenti o nolenti, nei momenti peggiori che vivremo nei prossimi mesi. Grazie a tutti.